Poi sai che io partecipo a questi programmi solo per promulgare la dieta mediterranea. Patrimonio immateriale dell'umanità. Niente, non esce. E' tornata la domanda, scusate avvocato, ma mamma mia, quanti anni dì? 102 a marzo. Ha fatto la prima comunione con Giuseppe Carimbolto e mamma mia ci deve l'assegnare perché noi dobbiamo fare una spesa per la vigilia. E' come se avessi una specie di, come dire, una cosa che, anzi una premonizione, se dovesse capitare qualcosa così all'improvviso. Comunque ci accompagni Antonio, così facciamo presto. La vostra Simba, rivede le tradizioni. Ho preparato un programmino. Non ti ci mettere anche tu. Pedico? Oh cazzo. Vieni il protettore degli automobili. Mamma mia. No, Nico, non scherzare, tu mi servi, noi stamattina siamo in missione speciale. Capito? Mission impossible. Eh. Ma ci muovono questa coppa. Ma no, signor, non ti dico. Crede, se non fosse peccato, io mi lascio la coppa a bascia. La pozzarella, laudatissimum casem, come la definì Plinio il vecchio. Eh. Eh, ci vogliono 5, 6, 1. Quello è lungo. Odù. Mi scomparse mio riposo. Antonio! 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 Ma io mi ringrazio. Ehi, dove? Sei il frutto dell'amore per la terra e la fede della Madonna. Ma ma che devo friggere? Chi una grazia a questo prega, Nico, prega. Guardate quei cannolicchi, vedete? Parla. Sono l'ultimo parola, i miei primi amici. I'm crazy a party. Eravamo in un ristorante a un certo punto. Ha cambiato atteggiamento. Sì. Grazie. Ragazzi, mi serve un altro giocatore per il 3-7. Abbiamo trovato il quarto uomo. Ah, beh. Matthew, britannico. Britannico? Britannico. Britannico. Pardon, doctor. La Kertz. Eh, la Kertz. Che sei in Parisi? Che fai? Ti arrabbi se ti dico una cosa? Tu parla, parla, parla in continuazione. Siamo sposata tantana, papì. Non ti sei stata zitta cinque minuti. Volevo proporla di aiutarmi a scrivere un libro che parla proprio di caratteristiche e proprietà della dieta mediterranea. Che cosa ne pensa? Io penso che lei mi vuole rubare il mio. No, no, no. Da gioventù. Da gioventù. I figli. I figli. Bravo. Lascia che le emozioni che stai vivendo riaccende il calore che sta dentro di te. Come arriviamo ad Amalfi ci fermiamo al solito caffè per prendere il solito aperitivo. Dopodiché andiamo direttamente al museo della Kertz. Ritiriamo la Kertz. Riscendiamo dal museo. Lungo la strada ci fermiamo anche al Duomo. Arrivo previsto ad Avellino alle ore. Alle 18.30. Un altro guai. È successo un altro guai. Tu hai messo troppo lì? Ho fatto la montagnella. Non hai stretto la macchinetta? Ho usato la mappina. Ma l'acqua ce l'hai messa? Sì, la valvola. Ce l'hai soffiato dentro? Qua che ha pigliato un bar. 45. Ah, 45. Good wine. Tombola. Sì. Come uwagę. Brungo. Sì, pronti They EPIC-4 Fq gia l'ho. Sì, rumore.